cartaruga borsellino e legno per i bonsai oggi sono già carico eh gli altri stanno andando così non vediamo né uno né l'altro se fanno qualche capo il pietro è già andato avanti apposta il maledetto che è guarda non farsi vedere eh cazzo guarda che balordo eh la jacuzzi sai come si chiama quello ai 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 no se salto qua mi ammazzo no no non vado di lì recupera recupera gliela regaliamo spanti quanti sei sempre nei nostri cuori anche quando non ci sei solo che appena ci penso cado cazzo guarda fuori fuori marco hai perso le lamelle del carburatore grazie grazie Grazie